Bisogna ritornare ai fondamentali del Paese, il termine lavoro citato dal nostro primo articolo della Costituzione, l'Italia è la Repubblica Democratica fondata sul lavoro, il lavoro è il fattore di coesione del Paese. Vi cominciare a parlare di lavoro, di incremento occupazionale, di inclusione giovani è la grande sfida dell'Italia e dell'Europa. Lo abbiamo sottolineato, tra l'altro la settimana scorsa insieme alla Confindustria francese e tedesca, occorre ripartire da questi fondamentali e usare la finanza come strumento per finanziare la cosiddetta economia reale, spingendo in avanti le nostre aziende eccellenti e aiutando quelle aziende in quella fase cosiddetta di transizione a fare il grande salto di qualità nel Paese. Noi facciamo quanto dobbiamo fare nei periodi di recessione la misurazione rispetto al tema della crescita, quindi le regole, gli attori, al ruolo che svolge. Poi noi oggi abbiamo in Italia una seconda caratteristica di quelli che pur facendo si dimegano tutti oppure si maledicono o nel migliore dei casi. Queste come battaglie dietro guardia, chiudere la società aperta.